Allora, appunto, poi lo vedrete nei vari temi di esami, non sempre compare, domande esattamente sulla programmazione, però in molti casi compare. Sono domande sulla teoria del linguaggio, sulla teoria delle strutture dati, non tanto sulla programmazione. In queste domande qua non vi viene chiesto scrivi del codice, ma vi viene chiesto qualcosa sui concetti che stanno alla base del linguaggio stesso e delle sue strutture dati. Allora, anche qua adottiamo lo stesso metodo, partiamo dal fondo. Domanda 20 chiede, qual è la differenza tra liste ed insiemi in Python? Dire se è possibile convertire una lista in un insieme e viceversa, cioè un insieme in una lista e con quali effetti. Allora, proviamo a darci una risposta. quindi le liste e insiemi sono entrambi contenitori mutabili, quindi posso aggiungere, modificare, cancellare elementi dalle liste e dagli insiemi. La lista è ordinata, quindi per indice, da zero in avanti, mentre l'insieme non è ordinato, non posso dare un ordine agli elementi. La lista può contenere qualsiasi dato, mentre invece l'insieme, qualsiasi tipo di dato, può contenere solo dati immutabili. e quindi sappiamo che sono ad esempio tuple, stringhe, numeri e basta. La domanda poi continua, quindi queste sono le differenze principali tra questi due tipi di dati, la differenza tra liste e insiemi. È possibile convertire una lista in un insieme e viceversa? Con quali effetti? Certo che è possibile. Quindi è possibile convertire 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 come ad esempio dalla lista da lista a set lo posso fare semplicemente chiamando la funzione set di una determinata lista all'effetto funziona se gli elementi di x sono immutabili, altrimenti darà errore e cancella tutti i duplicati eventualmente presenti mentre invece da set a lista lo posso scrivere usando la funzione list e questo funziona sempre e assegna un ordine arbitrario agli elementi punto lo posso sempre tradurre in lista qualunque struttura la posso tradurre in una lista ovviamente quando crea una lista questa viene ordinata in qualche modo e arrivando dall'insieme non c'è nessun controllo su come viene creato questo ordine mi sembra che non ci sia altro da dire su questo punto domanda 19 qual è la differenza tra tipo mutabile e immutabile in python? si elenca in un tipo mutabile e un tipo immutabile a scelta ok allora un tipo di dato mutabile mutabile è un valore che può essere modificato anche dopo l'assegnazione iniziale invece un tipo immutabile è un tipo di valore che può essere essere assegnato inizialmente assegnato con un valore iniziale ma che non può più essere modificato in seguito esempi di tipi immutabili sono le stringhe sono i numeri i valori numerici sono per costruzione le tuple esempi di tipi mutabili invece sono le liste sono i dizionari sono insiemi questi immutabili posso costruire una stringa posso indicare un numero costruire una tupla ma una volta che l'ho costruita non lo posso modificare se ho bisogno tra virgolette di modificarla dovrò costruirne una nuova in cui copio i dati e aggiungo tolgo eccetera nel costruire quella nuova il dato che mi serve o non mi serve più ok ci chiedeva altro differenza del mutabile e del mutabile si elenca un tipo ok a scelte non abbiamo elencati tutti ma stiamo facendo esercizi quindi vale la pena approfondirli un pochino in più ok domanda 18 quali caratteristiche devono avere i valori memorizzati in un insieme elencare sia i valori memorizzabili sia quelli non memorizzabili in un insieme allora questo qua se vogliamo è una una specificazione più dettagliata di quella di prima quindi in un set possono essere memorizzati solo valori immutabili e confrontabili confrontabili perché ovviamente poiché l'insieme deve capire se ci sono i duplicati oppure no deve poter dire se due elementi sono uguali oppure no ma per noi diciamo così tutti i contenitori che conosciamo sono confrontabili quindi è una specifica in più che ho dato ma non non crea problemi non crea differenze col tipo di strutture dati che conosciamo la domanda mi chiede di dare degli esempi di valori memorizzabili e non memorizzabili quindi ad esempio memorizzabile alla fine sono la stessa cosa di prima memorizzabile sono stringhe duple e numeri non memorizzabile ad esempio una lista un dizionario un altro insieme perché non non sono immutabili in realtà se andiamo a vedere la documentazione parla di un attributo diverso che si chiama hashable un set deve contenere degli elementi che hanno la proprietà di essere hashable che implica l'immutabilità implica la inconfruttabilità ma in realtà potrebbe essere esteso anche ad altri tipi di dati che non siano quelli indicati ma questo lo si può apprezzare solamente quando uno si definisce i propri tipi di dati quindi sarebbe conoscere la programmazione oggetti per costruire nuovi tipi di oggetti e poi a questo punto questi nuovi tipi di oggetti li possiamo costruire in modo che possono essere inseriti in un insieme oppure no se li costruiamo nel modo giusto sul tipi di oggetti che conosciamo che sono questi che sono elencati qua questa è essenzialmente la divisione andiamo avanti il 16 quali sono i tipi di dato validi per gli amici contenuti in una lista e di un insieme beh questa è esattamente la stessa domanda della 20 15 come si può fare in python a convertire una stringa in minuscolo questa è una domanda facilissima allora innanzitutto potrebbe essere una domanda trabocchetto nel senso che non è possibile convertire una stringa in minuscolo nel senso che la stringa è immutabile ma è possibile costruire una nuova stringa che contenga la versione minuscola con il metodo lower esempio s2 uguale s1 punto lower adesso non so se la domanda era stata fatta con l'intenzione di essere un trabocchetto che non puoi convertire quella stringa ma ne puoi costruire una diversa ma sicuramente il modo per farlo è usare il metodo lower questa è la domanda 15 domanda 14 in una funzione python qual è la differenza tra gli argomenti e i valori restituiti quanti argomenti può avere una funzione e quanti valori può restituire una funzione allora qui parla del meccanismo di chiamata delle funzioni qui noi abbiamo delle funzioni che quando io definisco una funzione ho dei vari argomenti ne posso avere più di uno e poi avrò delle istruzioni che eseguo a un certo punto farò un return posso fare un return del risultato allora gli argomenti possono essere di qualsiasi tipo qualsiasi tipo possono essere da zero in su posso avere funzioni con zero argomenti posso avere funzioni con uno due tre quattro argomenti posso indicare posso specificare punto facciamone un punto alcuni argomenti possono essere opzionali se dichiaro un valore di default ad esempio argomento tre se metto uguale a zero allora quell'argomento tre è opzionale perché posso anche non specificarlo quindi questo è quello che ci chiedeva quanti argomenti può avere un'evoluzione una funzione quando chiamo la funzione devo avere tanti argomenti quanti sono quelli obbligatori e posso averne ulteriori per riempire quelli opzionali quanti valori può restituire una funzione allora la funzione restituisce un valore l'istruzione return quindi la funzione tramite l'istruzione return restituisce un valore o nessun valore return posso indicare return senza nulla oppure return è un valore a fianco return senza nulla di fatto restituisce un valore none quindi se uso l'istruzione return senza argomenti oppure addirittura non uso l'istruzione return l'esecuzione della funzione arriva in fondo arriva all'ultima riga allora viene restituito il valore fittizio none altrimenti posso restituire un valore dopodiché si possono restituire valori multipli ad esempio inserendoli in una tupla tipo return xy e quindi sembra che stiamo restituendo due valori in realtà stiamo costruendo una tupla che ha come primo elemento x il secondo elemento y e restituiamo quel singolo valore di tipo tupla che poi il chiamante potrà scompattare prendere il primo e il secondo elemento e memorizzare in due variabili diverse quindi è un trucco sintattico che ci fa apparire quasi come se potessimo restituire più valori contemporaneamente mentre in realtà devono essere comunque impaccati in unico in unico riferimento ok poi punto 13 è possibile che in dizionario fossimo presenti due chiavi associate a valori uguali e due valori associati alla stessa chiave allora due chiavi associate a valori uguali allora stiamo parlando in un dizionario ok quindi in un dizionario possiamo avere più chiavi chiave 1 chiave 2 chiave 3 chiavi e poi possiamo avere dei valori v1 v2 v3 v4 eccetera allora la domanda cosa ci chiede prima ci chiede è possibile che ci siano presenti due chiavi associate a valori uguali quindi vuol dire che ad esempio due chiavi tipo k1 e k2 sono entrambi associate al valore 1 questo non crea particolari problemi nel senso che se ogni chiave ha un valore se per caso il valore di una chiave è uguale al valore di un'altra chiave va bene nel senso che saranno di fatto due alia che puntano allo stesso oggetto che puntano allo stesso valore però non crea nessun problema al dizionario quindi il fatto che ci siano chiavi diverse che puntano allo stesso valore non crea problemi alcun problema al dizionario poi magari può creare problemi a noi se se abbiamo due alias sulla stessa variabile ne cambiamo una e per sbaglio viene cambiata anche l'altra ma per il funzionamento del dizionario non crea problemi c'è l'altro caso invece che dice due valori associati alla stessa chiave invece questo non è possibile cioè non è possibile avere una sola chiave tipo la k3 e a questa associo due valori diversi v2 e v3 non è possibile proprio il dizionario se io provo a segnare d d k3 uguale v2 va bene se poi provassi a segnare anche a k3 uguale v3 semplicemente mi va a cancellare quella vecchia e me la sostituisce con quella nuova non riesco ovviamente a mettere due valori diversi in associazione alla stessa chiave si ricorda solamente l'ultima chiave che ha che ha avuto l'ultimo valore che è stato associato con la chiave e quindi invece non è possibile avere due valori diversi associati alla stessa chiave per carità se poi a quella chiave mi serve sia v2 che v3 io potrei fare qualche cosa ma è un'altra cosa del tipo dizionario alla chiave k3 uguale che ne so una lista che contiene v2 e v3 però non vuol dire che dentro questo dizionario la chiave k3 ci siano due valori c'è un valore solo che è di tipo lista e poi questa lista a sua volta contiene due valori però il dizionario contiene sempre un valore solo che è in questo caso il valore della lista poi se ci serve il memorizzare dei dati vorrà dire che quel dizionario anziché avere come valore un dato avrà una lista di dati come valore e questo invece è sicuramente possibile ma ha una chiave associata a un valore solo che è di tipo lista quindi su questo non si transige non ci sono dubbi o ambiguità ok passiamo al 12 si supponga di leggere un dato dalla tastiera cosa succede se si utilizza tale dato direttamente in un'operazione aritmetica come si dovrebbe procedere per gestire dati numerici introdotti da tastiera allora questo ci dice che io quando faccio l'operazione input quindi la funzione input restituisce sempre un dato di tipo stringa quindi se voglio interpretarlo come dato numerico dovrò convertirlo con int oppure float a seconda chiaramente del tipo di dato che mi serve e dopodiché su questo valore potrò fare le operazioni aritmetiche queste conversioni possono possono generare eccezioni di tipo value error ovviamente e quindi conviene inserire la conversione in un blocco try accept per evitare che il programma si blocchi in caso di un dato inserito in modo non corretto dal punto di vista numerico del formato numerico c'è un pezzo di domanda che non abbiamo risposto cosa succede se si utilizza il dato direttamente in un'operazione aritmetica e quindi possiamo aggiungere un pezzettino che lo precisi meglio se viene usato in un'espressione aritmetica causerà probabilmente errore ad esempio uno dice ma che tipo di errore causa se io voglio sommare cercassi di sommare un intero più una stringa che errore viene generato se è una domanda così precisa difficilmente ve la faremo nella parte di teoria però se anche capitasse non spaventatevi voi avete crownlabs dentro cui gira python quindi anche per rispondere alle domande di teoria potete tranquillamente usare la console di python e provare qualche istruzione per vedere cosa succede magari non mi ricordavo quale fosse il nome dell'errore data la funzione di conversione avrei benissimo potuto aprire la console e scrivere proviamo a fare int di una stringa e vediamo che errore mi dà quindi ricordate che per molte anche sulla parte della numerazione a volte qualcuno mi dice ma io posso usare la calcolatrice eccetera caspita c'hai python aperto puoi usarla certamente la calcolatrice con tutte le funzioni che conosci della libreria python quindi di fatto non è una calcolatrice fisica ma c'è lì sopra quindi ricordatevi che anche quando state rispondendo alle domande di teoria nell'altro tab del vostro browser c'è comunque un interprete python che vi può aiutare sicuramente a rispondere ok passiamo oltre domanda 13 11 perdon quali di queste strutture non si può realizzare in python e perché e qui abbiamo quattro opzioni dizionario di liste sedizionario di set e lista di liste allora vediamo un attimo se riusciamo a vediamo un attimo che non si può realizzare in python prendiamo questo lo copiamo no non qua la volevo la volevo sulla pagina nuova ok allora proviamo un po' ragionare si può creare un dizionario di liste allora la 1 è un po' ambigua perché cosa vuol dire un dizionario di liste un dizionario è fatto di chiavi e valori quindi queste liste dove le metto come chiavi non la posso usare la lista come valore posso usarla quindi qua è un pochino ambiguo diciamo che si può creare come valori ok dizionario con valori uguale lista ma no dizionario con chiavi uguale lista quindi facciamo i buoni supponiamo che parlasse di valori ok un insieme di dizionari questo invece non si può creare perché il dizionario non è mutabile perché il dizionario non è immutabile abbiamo detto già cento volte che in un insieme ci possono andare a finire solo i dati immutabili un dizionario di insiemi non darbbe problemi nel senso che sempre che l'insieme sia come valore invece no come chiave le chiavi di un dizionario hanno lo stesso vincolo degli elementi dell'insieme quindi devono essere mutabili un set non è immutabile pur se deve contenere elementi immutabili ma il set stesso non è immutabile una lista di liste ok non da problemi quindi in pratica l'unico che non si può fare neanche interpretandolo in un modo oppure in un altro è un set di dizionari che è l'unica struttura dati tra quelli elencati che è impossibile costruire poi passiamo alla domanda 10 il linguaggio python mette a disposizione dei programmatori sia dei dizionari che degli insiemi si richiede di fornire una sintetica descrizione di queste due strutture dati complessi indicando almeno una caratteristica comune ok allora qui mi chiede di riassumere cosa servono gli insiemi quindi un set contiene un insieme di valori che devono essere immutabili senza duplicati e senza ordine un dict contiene un mapping tra un insieme di valori immutabili e distinti tra di loro tra di loro ed un insieme un insieme di valori chiamiamole chiave ed un insieme di ed un gruppo non uso la parola insieme perché non ho detto che lo sia un gruppo di valori associati di qualsiasi tipo la caratteristica comune è che le chiavi di un dict sono un insieme si comportano come un insieme perché sono univoche e immutabili stavo quasi per dire non ordinate ma in realtà in un dict le chiavi sono ordinate con ordine di inserimento mentre invece nel set non c'è nessun ordine assoluto ok andiamo alla domanda 9 ci dice quali tra le istruzioni seguenti permette di creare una variabile di 2 che contiene una copia del dizionario di 1 allora anche qui proviamo a ricopiarci questa cosa questo schemino nella nostra lavagna così ci scriviamo intorno facciamolo si può anche fare più grande quindi abbiamo più spazio per scrivere allora io voglio fare una copia c'è scritto di 2 uguale di 1 da D1 fare un D2 che sia una copia di D1 allora la prima operazione è sbagliata no perché perché crea un alia se non una copia cioè non crea un nuovo dizionario in cui vengono copiati i dati ma semplicemente dà un nuovo riferimento allo stesso dizionario che esiste la seconda e la terza anche queste sono sbagliate perché questo qua il Dict di 1.values penso che dia addirittura errore di sintassi perché di 1.values è solamente una lista dei valori come di 1.keys è la lista delle chiavi quindi come faccio creare un dizionario avendo solo i valori o avendo solo le chiavi quindi in questi casi è impossibile perché sono incompleti informazioni incomplete quella corretta è l'ultima in cui prendo un dizionario di 1 che conterrà chiavi e valori e costruisco un nuovo dizionario con la funzione Dict inizializzandolo con i valori che erano precedentemente dentro D1 e quindi a questo punto D2 mi darà un nuovo dizionario che condivide le stesse chiavi condivide gli stessi valori ma il dizionario è un dizionario nuovo quindi a questo punto potrò poi cambiare i valori associate alle chiavi potrò aggiungere le chiavi cancellarle senza più diciamo così avere nessun legame col contenuto di D1 quindi da questo momento in avanti D2 e D1 possono andare avanti diciamo così separatamente perché uno è la copia dell'altro ok domanda numero 8 si considerino liste ed insiemi elencare le differenze tra queste due strutture dati e direi che la prima domanda che abbiamo risposto era l'ultima del file evidenziare vantaggi e svantaggi fornendo esempio i dati per cui la presentazione per la cui la presentazione è più opportuno utilizzare una lista e i dati per cui la presentazione è più opportuno utilizzare un insieme quindi aggiungiamo solamente l'ultimo punto perché gli altri due sono già stati trattati nelle altre domande e quindi potrei dire quando è che è più comodo o più preferibile usare una lista una lista per dati che possono essere duplicati o sono dati complessi quindi non sono poi immutabili perché magari sono a loro volta liste a loro volta dizionari eccetera eccetera e o mi interessa mantenerne l'ordine l'esempio faccio un riferimento all'esercizio che abbiamo fatto l'elenco dei prodotti in uno scontrino dove in uno scontrino posso avere più volte lo stesso prodotto e poi l'informazione che ho non è solamente il prodotto ma anche il prodotto più il prezzo quindi ha una coppia di valori che non è detto che sia immutabile invece in un set ho dei dati diciamo semplici perché sono chiaramente i tipi immutabili in cui voglio mi serve voglio la garanzia di univocità cioè mi è importante per me essere sicuro di non avere dei doppioni in un certo senso e quindi l'esempio di dati da memorizzare in un insieme potrebbe essere che ne so fate pensare che ne so potrebbero essere i codici degli esami superati poter superare allora un insieme di codici chiaramente lo stesso esame non può essere superato due volte allora in quel caso ho una struttura dati cui mi impedisce di inserirlo più di una volta e il codice a sua volta è solamente una stringa quindi è un dato semplice immutabile che può essere inserito all'interno di un insieme ok andiamo alla domanda numero 7 quali vantaggi e svantaggi forniscono un insieme rispetto a una lista devo dire che dobbiamo smettere di fare domande sugli insiemi perché sono sempre uguali e quindi anche questa abbiamo già risposta di spiegare il concetto di visibilità di una variabile e indicare la differenza tra variabili locali e variabili globali allora questo è un pochino più articolato allora una visibilità di una variabile visibilità di una variabile è sono tutte le righe quali sono è definita come le righe di programma in cui è possibile usare il valore di una variabile sopra definita di solito la regola normale è che una variabile è visibile dal punto in cui viene definita fino alla fine della funzione in cui è definita oppure fino alla fine del file se è definita fuori da una funzione quando io definisco una variabile all'interno di una funzione questa variabile è visibile solamente all'interno della funzione quindi quando arrivo all'ultima riga della funzione dalla riga successiva quella variabile non esiste più potrei usare un'altra con lo stesso nome ma sarebbe una variabile diversa e indipendente se invece definisco una variabile al di fuori delle funzioni quella variabile è visibile lungo tutto il file ovviamente dal punto in cui l'ho definita in avanti e eventualmente quella variabile è visibile anche dentro le funzioni che sono definite in seguito noi tendiamo a usare molto poco le variabili all'esterno delle funzioni per ragioni proprio di confusione l'abbiamo usato molto spesso per definire delle costanti quindi i costanti magari definiamo all'inizio del file tanto le costanti non davano a grosso problema e quindi automaticamente avendo definito l'inizio del file sono disponibili lungo tutto il file e lungo tutte le funzioni definite all'interno del file quindi una variabile si dice locale è definita e visibile solo dentro una funzione una variabile globale invece è visibile su tutto il file poi noi non l'abbiamo visto io mi guardo bene dal dirvi come si fa ma è possibile è anche possibile rendere globale una variabile definita dentro una funzione usando usando la parola di istruzione global sono fiero di non averlo detto perché serve solo per fare casini per fare porcate con l'immescolare variabili definire una variabile globale dentro una funzione che può essere vista da un'altra funzione questo è solo andare a cercare guai in un certo senso però tecnicamente il linguaggio me lo permette io l'ho scritto perché lo sapevo ma se non anche se non l'avesse scritto sarebbe andato bene lo stesso perché ovviamente questi due livelli di visibilità noi abbiamo visto nelle funzioni oppure nel file complessivo ok numero 5 riduco un pelino l'ingrandimento perché dice un programmatore vuole rappresentare delle matrici numeri nella propria applicazione ad esempio vuole rappresentare questa matrice quadrata 1 2 3 4 qui è un tentativo rozzo di disegnare la matrice quadrata come la disegneremo la lavagna il programmatore ha pensato tre possibili rappresentazioni di questa matrice si discutono brevemente vantaggi e svantaggi delle tre opzioni indicando se alcune di esse si devono considerare errate allora qui ci sono tre opzioni diverse riportiamola di là e proviamo a ragionarci allora io volevo fare allora una matrice quadrata ok con i numeri 1 2 3 4 una cosa così 1 2 3 4 come matrice e devo ovviamente usare poiché in python non esiste la struttura dati matrice devo in qualche modo arrangiarmi allora 1 2 3 4 la prima versione è di fatto è come se fosse una linearizzazione della matrice per righe prima spieghiamo cosa sono poi diciamo se sono belle o non belle se è consigliabile o non consigliabile 1 2 3 4 invece è la rappresentazione normale a lista di liste che è quella che useremo normale più diciamo quella di tradizionale normale rappresentata per righe 1 3 2 4 che è una cosa strana anche questa è una rappresentazione a lista di liste però rappresentata per colonna per colonna perché 1 3 cioè il primo elemento rappresenta gli elementi della prima colonna 2 4 rappresenta gli elementi della seconda colonna allora di queste rappresentazioni questa è sicuramente quella preferibile perché è più esplicita fa vedere che abbiamo una lista di liste è più diciamo così tradizionale nel senso che è più nota è più convenzionale con la parola convenzionale e quindi un programmatore che legga questo riconosce immediatamente quali sono le righe e quali sono le colonne perché il primo indice è l'indice di riga e il secondo indice è l'indice di colonne la rappresentazione a lista di liste è rappresentata per colonne e quindi è possibile ma ma con attenzione ma i programmatori devono fare attenzione allo scambio riga-colonna righe-colonne rispetto a quanto siano abituati quindi se non ho un motivo vero perché magari devo fare certi tipi di operazioni dove dovrò fare mille volte la somma per colonne e non dovrò mai farla per riga allora va bene faccio questo perché mi torna utile averlo rappresentato in quel modo ma se se non c'è un motivo forte di questo genere non andrei a rappresentarlo in questo modo perché mi complica la comprensione del programma perché mi obbliga a pensare al contrario di come sono abituato normalmente a pensare per carità è tutto convenzionale però la convenzione aiuta nel senso che normalmente le cose si fanno in un certo modo e se le facciamo sempre nello stesso modo è più facile per noi se rompo una convenzione è una convenzione non è una legge lo posso sicuramente fare se ho un buon motivo quindi è accettabile se ci sono motivi per favorire l'aggregazione per colonne direi così il primo caso all'inizio della matrice per ricche per me è sconsigliabile anche perché perché ambigua cioè ad esempio questa matrice è una matrice 2x2 è una matrice 1x4 è una matrice 4x1 e non lo sappiamo non c'è scritto sappiamo che ha 4 elementi in totale ma poi come sono disposti questi elementi non lo sappiamo mentre negli altri casi invece è esplicito per l'anidamento delle liste qua no e poi anche scomoda perché esempio per avere per estrarre un elemento in una certa riga in una certa colonna dovrò scrivere matrice di riga per 2 più colonna devo calcolarmi con una formuletta numero di righe moltiplicato numero della riga che mi serve moltiplicato numero di colonne totali che è 2 più numero di colonna che mi serve per ottenere l'indice in cui dovrò trovare l'elemento che mi serve e quindi avrò il programma pieno di formulette di questo genere che diminuiscono la legibilità e aumentano la probabilità di errore quando invece qua sotto avrò matrice di riga colonna che è molto più esplicito è indipendente dal numero di righe e numero di colonne non devo sapere altre informazioni quindi teoricamente sono tutte e tre accettabili nel senso che rappresentano i dati la seconda è quella preferibile la terza è quella accettabile se c'è un motivo valido la prima fatica a trovare dei motivi validi per poterla per doverla preferire in certo senso per doverla scegliere ok passiamo avanti passiamo avanti alla domanda numero 4 fornire un esempio in cui l'ordine delle istruzioni e l'IF influenzi il risultato finale allora quindi vuol dire che stiamo immaginando un codice in cui ho IF una certa cosa e l'IF un'altra cosa e l'IF un'altra cosa faccio else faccio qualche cos'altro l'ordine delle istruzioni e l'IF influenza il risultato finale quindi vuol dire che noi se scambiassimo la B con la C il risultato sarebbe diverso allora questo cosa può quando può succedere ovviamente poi farò certe operazioni facciamo finta di scrivere print1 print2 print3 print4 ripacciamo la copia allora abbiamo detto cambiamo la condizione C con la condizione B allora se queste condizioni che ho chiamato genericamente ABC che adesso poi dobbiamo ragionarci fossero tutte disgiunte l'una dall'altra quindi se è vera A non è vera B se è vera B non è vera C e se non è vera nessuno delle tre vado nell'ES allora questi due codici avrebbero esattamente la stessa funzione diverso è invece se queste condizioni booleane possiamo vederci come degli insiemi avessero delle intersezioni allora se io ho una condizione B prima di C nel caso in cui un certo valore renda vero sia B che C in questo caso viene fatto il 2 nell'altro caso se c'è un valore che rende vero sia B che C viene fatta quest'altro operatore scusate qua era 2 devo scambiare anche questo ovviamente viene fatto il 3 anzi che il 2 ad esempio proviamo a dire if x è minore di 0 print 1 poi dico se x è pari e se x è maggiore di 10 quindi qui scrivo negativo qui scrivo pari e qui scrivo grande e qua scriverò piccolo perché non è minore di 10 allora se qui traduco lo stesso travaso lo stesso codice quindi proviamo a duplicarlo e scambiare tra di loro le due elif quindi ho scambiato tra di loro l'ordine dell'elif che era quello che mi chiedeva la domanda cosa capita che se il numero è negativo in entrambi i casi scrivo che è negativo se il numero è un numero pari e minore di 10 e maggiore di 10 tipo 20 nel caso del 20 non cado qui nel caso del 20 scriverò pari perché 20 è un numero pari rende vera questa condizione e quindi scrivo pari e non scrivo gli altri numeri però nell'altro caso se il numero vale 20 x maggiore di 10 viene verificato perché 20 è maggiore di 10 e stamperò che il numero è un numero grande quindi nel primo caso col valore 20 stampo pari nel secondo caso col valore 20 stampo grande quindi l'output il risultato del programma dipende dall'ordine dell'elif questo perché si è verificato perché le condizioni che sto testando nei vari rami dell'elif non sono mutuamente esclusive ma sono in parte sovrapposte ci sono dei valori che ne rendono vere a più di una è possibile è lecito non c'è nessun problema però in questo caso l'ordine con cui io indico le condizioni è in certo senso l'ordine di priorità con cui considero le proprietà del numero cioè se un numero che sia pari che è grande per me è più importante pari allora lo testo prima oppure è più importante che sia grande allora testo prima il grande e stesterò solamente dopo in caso che sia pari in cui cadrò solamente se il numero è minore di 10 quindi questo pari qua mi prende lo 0,2,4,6,8 e non altro quindi si trovava si trattava di trovare un esempio in cui ci fossero delle condizioni che fossero in qualche modo sovrapposte in questo caso il pari è il grande oppure potrebbe essere il grande è il grandissimo maggiore di 10 maggiore di 20 a seconda dell'ordine in cui li metto ovviamente vince uno oppure vince l'altro domanda numero 3 qual è lo scopo principale dell'indentazione nel linguaggio Python fare un esempio in cui esser risulti di vitale importanza allora l'indentazione è la base della sintassi Python quindi l'indentazione serve a definire i blocchi per tutte le istruzioni di tipo composto quindi if for while def try with e chi più ne ha più ne metta tutte le istruzioni che definiscono un blocco di istruzioni che devono essere eseguite non eseguite ripetute eccetera devono specificare dove inizia e dove finisce questo blocco dove può essere di vitale importanza come dice l'indentazione io un esempio che potrei fare potrei dire for x in v per un valore all'interno di una lista posso fare ad esempio totale uguale totale più x e poi faccio print di x ovviamente di tot scusatemi dove tot uguale 0 se io ripetessi la stessa cosa con un'indentazione diversa della print allora nel primo caso il totale viene stampato una volta sola alla fine giustamente l'altra volta il totale viene stampato più volte quindi stamperei i valori progressivi via via calcolati e quindi ho un risultato che è completamente diverso qui non sto ovviamente considerando dei casi in cui l'indentazione sia sbagliata cioè io questo non lo metto come esempio perché questo non è un codice python valido perché ho due punti che apre un blocco e non ho nulla di indentato sotto il blocco quindi questo è un errore di sintassi quindi non è un esempio di un codice python è un codice non python così come se io mettessi l'indentazione qua e qui non posso indentare il for sotto un tot è un'istituzione precedente che non finisce con due punti quindi che non apre un nuovo blocco ok quindi in questo caso ci chiedeva di fornire degli esempi di codice vero che però si comportasse in modo diverso qui adesso dice di vitale importanza con iperbole ma modificando l'indentazione modifichi il comportamento del programma perché in python i dizionari sono chiamati così è una domanda a cui mi viene da rispondere ma chiedi a chi l'ha chiamati così noi possiamo dare un'interpretazione il termine dizionari il dizionario ricorda il fatto che ad una determinata valore detto chiave possono essere associati dei dati come in un dizionario in cui è associato delle parole dei sinonimi o in un'enciclopedia inoltre le chiavi sono univoche come nei dizionari cioè una certa parola nei dizionari come i dizionari della lingua una certa parola c'è in un posto solo nel dizionario il dizionario magari ha 3000 pagine ma tu le riesci a trovare le parole perché sono tutte facili da trovare e compaiono in un punto solo quindi sono univoche e facili addirittura immediate direi da trovare a differenza di una lista in che dovrei scorrere tutte in un dizionario apro la pagina giusta per trovare la parola che mi serve e la struttura dati di dizionario effettivamente ha queste proprietà ci rimane da vedere l'ultima domanda spiegare il concetto di alias in python e potenziare i problemi adesso correlati durante la struttura del codice problemi od opportunità cioè diciamo che i problemi sono nel non capire se ho un alias o una copia allora proviamo a spiegarlo allora si indica definisce alias una variabile che è associata allo stesso valore di un'altra variabile quindi le due variabili sono alias in quanto lo stesso valore dato valore contenitore ciò che abbiamo ciò che abbiamo rappresentato può essere quindi letto letto o modificato indifferentemente attraverso l'una o l'altra delle variabili alias questo mi dà un'opportunità ad esempio il fatto che una funzione può modificare un contenitore di un'altra funzione definita in un'altra funzione diciamo così perché è possibile perché il parametro di una funzione gli argomenti di una funzione sono alias dei possono essere alias di variabili di altre funzioni un po' contorto da dire da scrivere nella parola vuol dire semplicemente che io quando definisco l'alias sono due variabili che puntano al stesso valore se sono due variabili della stessa funzione non serve quasi a nulla ma se sono due variabili di due funzioni diverse io ho due funzioni diverse che in realtà riescono ad usare gli stessi dati vedere gli stessi dati anche se normalmente non potrebbero perché essendo in funzioni diverse diciamo le regole di visibilità delle variabili fa sì che una non possa vedere le variabili dell'altra non posso vedere le tue variabili ma nulla mi vieta che tu mi passi un alias di una tua variabile quindi posso agire sui valori tuoi anche se non vedo le tue variabili diciamo così però bisogna fare attenzione che modificando il valore tramite uno degli alias una delle variabili alias la modifica risulta visibile anche tramite l'altro alias magari lo voglio è quello che voglio magari è quello che non voglio quindi devo fare attenzione se non lo voglio devo fare una copia esplicita e non un alias quindi usare un modo che mi ricostruisca una nuova copia della struttura dati anziché far riferimento allo stesso valore che esiste già su questi aggiornamenti qua mi raccomando fatevi la diciamo la mappa mentale l'immagine mentale di ciò che succedeva su Python Tutor dove vedevamo effettivamente questi valori che erano condivisi dalla stessa freccia oppure venivano replicati in un'altra struttura dati in un nuovo valore ok direi che abbiamo esaurito le domande che erano proposte qua sulla parte di programmazione che avevo estratto da un po' di temi di esame degli ultimi due anni quindi quindi se la tipologia delle domande qua è un pochino più variabile da parte del fatto di domanda lista insieme che purtroppo è comparsa più volte ma non è detto che comparirà ancora però sono sui vari aspetti del linguaggio soprattutto sulle strutture dati sull'uso delle strutture dati in alcuni casi anche sulla sintassi sui costrutti del linguaggio stesso non dovrebbero essere diciamo così degli argomenti difficili se uno ha imparato a programmare in realtà sa cosa sta facendo quindi chiede solamente di riflettere un attimo a volte su come lo stai facendo o perché lo stai facendo in un certo modo ma per il resto detto col termine da studente non c'è da studiare extra per questa domanda qua essenzialmente va bene io direi che possiamo considerare conclusa sia questa lezione che anche in realtà il corso perché questo è l'ultimo momento in cui ci incontriamo come sempre tra un attimo andrò poi a pubblicare il video per qualunque cosa rimango a disposizione sui soliti canali su cui ci contattiamo e buona giornata e in bocca al lupo per l'esame arrivederci a tutti grazie a tutti grazie a tutti